Lei è stato il grande rivale a sinistra di Matteo Renzi, tanto da indurla a lasciare il PD due anni e mezzo fa. Il fatto che se ne vada oggi Renzi dal PD è una buona notizia? Ma è una notizia non inaspettata intanto. Questa domanda mi dà l'occasione di dire ma non è che io sono andato via o non ci sono andati via perché c'era antipatico Renzi. Anche se lui tende a valorare questa tese. Noi abbiamo posto allora un problema politico grosso come una casa che era quello di vedere nel Renzismo un meccanismo che tagliava le radici dei rapporti sociali e civili con gran parte del nostro popolo aprendo un varco nei ceti popolari per una destra che non aveva bisogno di aiutini. Questo è avvenuto? È avvenuto. E purtroppo. E quindi questo oggi non lo si affronta con buona pace di Renzi, con le porte girevoli nel PD. Ci vuole qualcosa che corrisponda al problema che ci è arrivato addosso, che è un problema serio. Per l'Italia sto dicendo. Allora aspetti che la fermo.